Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un esperimento. Di cosa si tratta? Faremo un esperimento con questo. Immergeremo l'uovo nell'aceto, eccolo qui, per 24 ore. Durante queste 24 ore la reazione dell'aceto sul guscio d'uovo, che è composto da carbonato di calcio o più come nemmeno detto calcare, lo consumerà completamente, lasciando l'interno protetto soltanto dai due stati esterni più sottili. Quindi mettiamola a mollo e non mettiamoci in chiacchiere e partiamo con l'esperimento. Grazie a tutti. 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 Mentre voi avete aspettato solamente 10 minuti del video, io comunque devo aspettare 24 ore. Allora, qua però ci sarebbe bene tipo una musica di quelle su Super Quark, però già su YouTube mi darebbe il copyright, quindi meglio evitare. Però magari così, io devo dire, io devo dire qualcosa del genere, avete visto tutto il processo che ha subito l'uovo nell'aceto, adesso lo vediamo subito. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Mentre se si spacca, mentre se si spacca, mentre se si spacca, dentro l'uovo è crudo, è solamente la parte più esterna che lo rivesta ancora. Qualcosa di incredibile. Ok, l'esperimento è giunto a termine. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, commentate e condividetelo. Al prossimo video.